La Feltre Crocedaune con le formiche scalatrici, ovvero come solo Fabio Vettori la può vedere e immaginare. C'è anche questo nel ricco carnet delle iniziative a corollario dell'attesissimo appuntamento rosa di sabato 1 giugno. Non è stato difficile fare sicuramente il centro storico di Feltre che oramai conosciamo per varie attività, invece far tutto il percorso e la tappa che comunque ricalca un po' la Sportful Dolomiti, che è questo bellissimo giro che attraversa tutte le Dolomiti, per cui è stato bello illustrarlo, mettere tutte le montagne con tutti i vari passaggi nei vari parchi, nei vari posti. C'è comunque un accenno anche alla tempesta che ha segnato la storia recente della città. Ebbè certo perché bisognava, sicuramente se ne parlerà anche al Giro d'Italia, tutti vedremo, se sarà una bella giornata si vedranno anche le devastanti azioni del coso, speriamo appunto che si riesca a risanare un pochino il tutto velocemente perché in certe zone è veramente messo male. Qua vedo già che comunque stanno tutti lavorando, come anche da noi in Trentino, hanno rimesso a posto anche la strada e tutto quanto. Quello è bello vedere, però è chiaro che una ferita c'è stata, è stata dura. Il comitato di tappa chiama intanto a raccolta i commercianti della città. Espressamente per loro è infatti stato messo a punto il contest vetrine in rosa, un concorso per promuovere la migliore vetrina ispirata alla corsa rosa. Ci sembrava una cosa molto carina da questo punto di vista allestire tutte le vetrine dei vari negozi di feltre. Quindi abbiamo creato questo contest con il bollino del poster di Vettori che caratterizzerà proprio l'appartenenza del negozio al concorso. Quindi è un concorso che noi speriamo dia adito alla fantasia di tutti gli allestitori di feltre che creino quindi una città in rosa. Poi vedremo chi sarà il vincitore che verrà premiato nella serata di gala del 31 maggio al Paraghiaccio proprio durante la serata riservata ai vari ospiti, ai giornalisti e all'entourage del Giro d'Italia. La partecipazione al contest è libera e gratuita entro il prossimo 26 maggio.